Oggi, nel nostro girovagare per l'Abruzzo Tutto d'Or, io ho ma Pescara. A Pescara ha gli citle, perché gli frechini li chiamano gli citle. Da quando sono piccolini nella culla insegnano questo proverbio. Si vufrca l'uvicine, t'ad'alza presto la mattina. Ossia, se vuoi buggerare il tuo vicino, la mattina ti devi alzare presto. Questo perché, non pensate a male, l'ufrca da Navod, dei nostri proverbi, dei modi di dire popolari, non era il ruppare, il truffare, il torlupinare, il raggirare. Era l'essere più fregni. Navod si trasmaggia pane e volpe, come si suol dire, per riuscire ad ottenere qualcosa. Allora, bisognava fare di necessità virtù. Insomma, la morale è, chi tardi arriva, male ad loggia. Ma, detta alla pescarese, è una frega più fregne.